il settimo segreto di meggiugorie la profezia catastrofica che minaccia il destino dell'umanità il settimo segreto di meggiugorie è uno dei dieci segreti rivelati ai veggenti della famosa località bosniaca dove si dice che la vergine maria nota come la regina della pace appare regolarmente dal 1981 i segreti di meggiugorie sono stati oggetto di grande mistero e speculazione poiché non sono stati ufficialmente rivelati al pubblico tuttavia si sa che il settimo segreto è considerato il più terribile tra i dieci il settimo segreto riguarda un evento catastrofico che dovrebbe colpire l'umanità viene descritto come il più spaventoso e devastante tra tutti i segreti tanto che ha causato molta angoscia ai veggenti stessi non sono stati forniti dettagli specifici sul tipo di calamità ma si crede che possa essere legato a una catastrofe naturale o a un evento di origine umana che porterà grande sofferenza e distruzione secondo quanto riportato dai veggenti la gravità del settimo segreto è stata in parte mitigata grazie alle preghiere e ai sacrifici dei fedeli la vergine maria avrebbe detto che senza queste preghiere l'evento sarebbe stato molto più devastante questo suggerisce che l'intervento umano attraverso la fede può influenzare anche se solo in parte il corso degli eventi predetti come gli altri segreti di meggiugorie il settimo segreto è avvolto nel mistero non è stato rivelato quando o come si manifesterà né quanto tempo ci sia ancora prima che accada i veggenti secondo quanto riferito lo conoscono e sanno quando si verificherà ma non possono rivelarlo fino a un certo momento stabilito i segreti di meggiugorie inclusi il settimo dovrebbero essere rivelati al pubblico da uno dei veggenti mirjana dragicevic soldo dieci giorni prima che gli eventi profetizzati si realizzino tre giorni prima che il settimo segreto accada mirjana dovrà rivelarlo al mondo insieme ai dettagli specifici dell'evento questo sarà il momento in cui il mondo conoscerà la natura esatta di questo terribile segreto il settimo segreto come gli altri è stato interpretato come un avvertimento all'umanità affinché si converta torni a dio e si impegni nella preghiera la madonna attraverso questi segreti invita le persone a riflettere sul loro stile di vita a pentirsi dei peccati e a fare penitenza il fatto che il settimo segreto sia stato mitigato dalle preghiere suggerisce che anche di fronte a una profezia di distruzione c'è spazio per la misericordia divina il settimo segreto di meggiugorie è il più terribile dei dieci segreti rivelati ai veggenti si tratta di un evento catastrofico la cui gravità è stata parzialmente attenuata grazie alla preghiera tuttavia rimane un segreto avvolto nel mistero che sarà rivelato solo quando si avvicinerà il momento della sua realizzazione fino ad allora continua a essere un potente monito per l'umanità a vivere nella fede e nella preghiera un po' di tempo un po' di tempo un po' di tempo un po' di tempo Grazie a tutti